Hola hola! Macchie cutanee e sole, le possiamo curare durante l'estate, durante la bella stagione? Sicuro di sì! Subito il video! Benvenuti, bentornati un'altra settimana a parlare di estetica, di cosmetica, di cose belle, di come migliorare l'aspetto della tua pelle, soprattutto della pelle del viso, di quello che tu puoi fare a casa tua per migliorare la pelle. Io solamente qua a darti qualche consiglio per creare un pochettino di educazione su cosa utilizzare per avere una pelle più luminosa, più radiosa, più senza macchie, senza rughe o almeno che si vedano di meno. Almeno ralentare il processo di invecchiamento, avere un invecchiamento più armonioso. E per tutti quelli che ancora non mi conoscete, che siete capitati qua per caso e dite ma da questo di cosa parla? Io sono Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina, di chirurgia estetica, lavoro vivo qua a Milano, vi parlo da casa, questi miei video di YouTube sono di quello che possiamo fare ognuno di noi a casa nostra e se vi piace l'argomento, non sono italiano, sono spagnolo, si sente dall'accento, ti sei reso conto? Bravo, brava! Se ti piace l'argomento, qua sotto c'è il tasto per iscriverti al mio canale di YouTube, c'è anche il campanello nel caso vuoi che ti arrivi la notifica per ricordarti che ogni giovedì io ti pubblico un video per raccontarvi cosa devi fare, per raccontarti cosa devi fare a casa per curare la pelle. Se volete sapere, se vuoi sapere più su medicina estetica, quello che faccio nel mio studio di medicina estetica, quello che faccio in sala operatoria come chirurgo, vi invito a seguirmi anche su Instagram e poi se volete vedere le mie routine di come mischio i prodotti, come li metto alla prova, come faccio prima e un passaggio dopo un altro passaggio per mischiare, per fare tutti gli estratti di prodotti, durante la mia routine di skin care al mattino e alla sera, nel mio TikTok trovate quel tipo di informazione. E oggi parliamo di macchie perché so che un argomento che di solito si tratta durante l'utune inverno perché ci sono dei prodotti cosmetici con degli ingredienti attivi molto più potenti che si possono principalmente utilizzare durante l'autunno e l'inverno, quando non c'è tanta intensità luminosa del sole e durante l'estate siamo un po' preoccupati su cosa posso fare, cosa non posso fare, soprattutto le persone che avete macchie, che forse durante l'inverno, durante l'autunno avete seguito una cura per trattare le macchie e siete arrivati o arrivati all'epoca di estate, di primavera estate, che ancora ci sono le macchie, non siete riusciti a schiarirle del tutto con i cosmetici o con i trattamenti medici e volete continuare avanti con la cura delle vostre macchie, non volete aspettare al prossimo ottuno inverno e non volete che peggiorino e non volete nemmeno di dire caspita passare adesso tutta la primavera estate solamente a mettere la protezione solare che è un gran passo avanti, occhio, ma forse dite caspita ho fatto tanto sforzo durante l'autunno e adesso mi devo fermare perché c'è il sole, che cavolo, va bene, ci sono degli ingredienti, ci sono degli ingredienti attivi in cosmetica che potete utilizzare tanto di primavera come di estate, come di ottuno, come di inverno, ci sono quegli ingredienti che si possono utilizzare durante tutto l'anno, sì che è vero che bisogna stare attento o attenta con qualche concentrazione, adesso ve lo spiego, due ingredienti chiavi per trattare le macchie durante la primavera estate, uno l'aniacinamide o vitamina B3, ne abbiamo parlato tantissimo su questo canale sull'aniacinamide, l'altro l'acido glicolico e adesso quando ho nominato acido glicolico primavera estate direte ma cosa sta dicendo? Ma io l'acido glicolico, ma se mi ha detto il mio dottore, la mia dottoressa, il mio medico estetico, la mia medico estetico che non posso fare i peeling durante la primavera estate perché c'è il sole e non mi può utilizzare il glicolico, come l'ha detto anche la mia estetista, ok, facciamo qualche considerazione, adesso ne parliamo su questo. Iniziamo dal primo ingrediente che ho nominato, l'aniacinamide o vitamina B3, è un ingrediente attivo che si può utilizzare durante tutto l'anno. Cosa fa? Da una parte ha una capacità di regolare il sebo, quindi le persone con la pelle grassa va benissimo, si utilizza anche nel trattamento dell'acne, ma non pensate che le persone con la pelle secca non la possano utilizzare, sì che la potete utilizzare, le persone con la pelle secca, l'aniacinamide, perché l'aniacinamide non va a asciugare il viso, non va a asciugare la pelle, non va a togliere l'olio della pelle, non va a ridurre, va a regolare, un sebo regolatore, quindi nelle persone che hanno un eccesso di sebo lo avasa, nelle persone che hanno poco sebo perché è una pelle secca, non dico che vadano a stimolare la creazione di sebo, ma di sicuro che non ti andrà a seccare la pelle, ok? L'aniacinamide se c'è un ingrediente che durante... no, che un ingrediente chiave per schiarire le macchie è la vitamina C, ma ci sono persone che hanno una pelle sensibile, non tollerano bene la vitamina C, e quindi un altro ingrediente smacchiante, schiarente per loro, che va benissimo, è l'aniacinamide, perché l'aniacinamide o vitamina B3 è buonissima e indicatissima per le persone con la pelle sensibile, quindi tu che hai la pelle sensibile, tu che hai macchie, tu che hai il rossore dopo i bruffoli dell'acne, o dopo una pelle irritata, o dopo un trattamento che ti ha creato irritazione, e hai il rossore, e hai i bruffoli rossi, eccetera, l'aniacinamide va benissimo per la tua pelle sensibilizzata. E quindi la vitamina C forse più adatta per una pelle resistente, l'aniacinamide per una pelle sensibilizzata, anche se la pelle sensibile può utilizzare anche la vitamina C con certe accorgiezze, sì, con qualche regola che l'ho spiegato in un altro video. Comunque vi racconto tre prodotti di cui vi volevo parlare che contengono l'aniacinamide. Questo siero della Rosposel più niacinamide 10, niacinamide al 10%, alta concentrazione di niacinamide, come vi dicevo va a regolare il sebo, ma va soprattutto a rimuovere le macchie, indicato per rimuovere le macchie, per schiarire le macchie, e per utilizzarlo durante tutto l'anno. Non c'è nessun problema, incluso nelle giornate di più sole in assoluto. Un altro prodotto economico è l'aniacinamide di Inchilis, è l'olio all'aniacinamide di Inchilis, molto leggero, sempre al 10% e va benissimo, pur essendo un olio incluso per le persone che hanno la pelle grassa, perché si distribuisce benissimo ed è molto leggero, molto gentile con la vostra pelle, e ha un costo un pochettino più basso di quello della Rose-Posay. E per ultimo, un altro prodotto con niacinamide che lo conoscete tutti, che ve ne ho parlato tantissimo in questi video, e che devo dire che è formulato bene, è questo di D.Ordinary, che è sempre niacinamide al 10% e contiene anche lo zinco al 1%, molto più economico e non è male. Se ho delle macchie importanti e voglio spendere un pochettino di più, sicuramente mi comprerei quello della Rose-Posay. Se invece ho delle possibilità economiche un pochettino più ridotte, ma sono costante nella mia routine di cosmetica e l'utilizzo di forma costante, questo di D.Ordinary, essendo molto economico, può andare benissimo. Quindi questo è quello che vi volevo dire. Quando le aniacinamide si utilizzano a alte concentrazioni, parliamo di concentrazioni che vanno oltre il 15%, oltre il 20%, vi troverete sieri nel mercato che dicono che hanno tantissima aniacinamide oltre il 15%, il 20% e stare attenti perché possono irritare la pelle, perché l'aniacinamide quando cambia concentrazione può incluso irritare la pelle. Occhio con questo, ok? L'altro ingrediente di cui vi parlavo è l'acido glicolico. E qua, come vi dicevo, vi metterete le mani sui capelli quando vi parlo di acido glicolico in primavera o in estate, ok? Qua c'è Rocco che mi sta guardando mentre io registro perché è scocciato, perché vuole uscire a passeggiare e mi guarda, è lì, che mi guarda come dicendo ma vuoi smettere di parlare e mi vuoi portare a fare la passeggiata? Adesso andiamo. L'acido glicolico. Rocco, per chi non lo sappia, è il mio cane, un lagotto romagnolo di quelli che cerca il tartufo ma questo non ha trovato niente ancora. L'acido glicolico. Allora, l'acido glicolico, sono d'accordo, che può creare irritazione sulla pelle e se si utilizza durante la primavera e l'estate la può sensibilizzare i raggi solari e di conseguenza la pelle si può macchiare ma facciamo una cosa intelligente. Avassiamo la concentrazione di acido glicolico quindi se durante l'inverno hai utilizzato un acido glicolico al 10%, all'8%, al 12% e vuoi continuare a utilizzarlo perché hai visto che l'acido glicolico ti rimuove le macchie, te le schiarisce va bene utilizza un acido glicolico formulato a un 5% e ce ne sono nel mercato certo che ce ne sono nel mercato iniziamo questo di Paula's Choice marchio americano è spettacolare per tutto quello che sono gli acidi esfolianti meravigliosa la sua fondatrice è una che ci ha insegnato tantissimo, tantissimo sulla mi prude qua tantissimo sulla cosmetica e soprattutto sull'utilizzo degli esfolianti per rinnovare la pelle per avere una pelle con un aspetto salutare sano e meraviglioso questo è una lozione quindi serve come idratazione se hai una pelle grassa ma se hai una pelle secca puoi applicare questo e poi devi applicare la crema idratante molto leggero contiene anche l'eniacinamide quindi un acido glicolico al 5% che contenendo l'eniacinamide che cosa dico l'eniacinamide le ceramidi le ceramidi va a proteggere la tua pelle la va a lenire e quindi non soffrirai nessuna irritazione dovuta all'acido glicolico e quindi utilizzandolo per esempio alla sera vai a dare la continuazione alla cura della tua pelle quindi va benissimo incluso di primavera di estate l'altro prodotto di cui vi volevo parlare è questo tonico di L'Oreal che contiene anche il 5% di acido glicolico quindi un acido glicolico delicato al 5% che lo potete utilizzare di forma continuativa tutte le sere o incluso al mattino dischetto di cotone si passa e crea quella leggera esfoliazione l'acido glicolico oltre a esfoliare andrà anche a trattare le macchie e la melanogenesi ok quindi ottimo prodotto a un prezzo abbastanza misurato e un altro prodotto può essere questa maschera di Clarence che contiene anche lei l'acido glicolico al 5% e quindi come siccome una maschera come funziona si applica si lascia in posa durante 5-10 minuti e poi dopo si applica la crema idratante di modo che va a neutralizzare l'effetto dell'acido glicolico la crema idratante e vai a idratare il tuo viso in quella fase di 5-10 minuti la maschera fa il suo lavoro come dicevo un acido glicolico al 5% quindi non dovete avere paura che non vi andrà a sfogliare se la tua pelle è resistente qualsiasi di questi prodotti li puoi utilizzare tutti i giorni alla sera per esempio se la tua pelle è sensibile ti consiglio di utilizzare la niacinamide al mattino e alla sera fare niacinamide acido glicolico a giorni alterni a sere alterne o utilizzare la niacinamide tutte le sere e due volte alla settimana tre volte alla settimana prima della niacinamide fare l'acido glicolico in tonico o da solo alternandolo va bene e per chi vuole un gradino in più ma Luis non ci sarà un prodotto che mi contiene la niacinamide e l'acido glicolico nello stesso prodotto e mi dà i benefici di tutti e due insieme sì c'è un prodotto e questo è il Lift Active B3 di Vichy che contiene 13% di niacinamide ma contiene anche un pochettino di acido glicolico e altri agenti esfolianti ottimo prodotto perché i due ingredienti attivi niacinamide e acido glicolico si vanno a sommare si vanno a potenziare tra di loro nel trattamento e nella cura delle macchie lavorando a diversi livelli della nostra pelle lavorando a diversi punti della creazione della melanina della sintesi della melanina è un siero quindi si applica dopo aver deterso la pelle e prima di aver applicato prima di applicare la crema idratante e la protezione solare mi raccomando quando utilizzate l'acido glicolico incluso in queste concentrazioni basse a 5% bisogna mettere la protezione solare non c'è cura delle macchie senza protezione solare perché quello che state facendo per rimuovere le macchie non viene come dire non si ottiene il risultato se voi non applicate la protezione solare anzi potete peggiorare le macchie se non applicate la protezione solare d'accordo e questo era tutto quello che io vi volevo dire si possono trattare le macchie anche durante la primavera durante l'estate si possono utilizzare questi ingredienti attivi incluso di primavera di estate durante tutto l'anno e se avete più dubbi più domande qua sotto mi scrivete che io li leggo e mi invento altri video per darvi risposta se volete sapere su medicina estetica andate sul mio instagram anche lì tante volte metto le stories dove do risposta alle domande che mi fate che leggo e che rispondo con le stories e anche sul mio tiktok su tutto settimana prossima di nuovo un nuovo video qua in questo canale di youtube di cosa parlerò non lo so nemmeno io ma io la settimana prossima vi parlo di un'altra cosa sempre relazionata con la skin care con la bellezza con la cura della nostra pelle del nostro corpo dei nostri capelli di tutto vi ringrazio grazie di esserci tutte le settimane qua di aver visto questo video se vi è piaciuto il video fate così se non vi è piaciuto fate così ma se fate così non mi importa perché io settimana prossima torno a parlarvi grazie ciao 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 ciao